Hello ragazzi, ciao a tutti ieri Nick e bentornati qua su Osflip Ragazzi vi ringrazio come sempre per i consigli e i commenti che lasciate giù Giù nel video Mi avete detto Nick Hai messo la porta d'ingresso sbagliata Hai messo quella da interni Ho già sistemato come potete notare L'ho già cambiata Qualcun altro di voi mi ha detto Nick ma sbaglio O il gioco ti va un po' male Scatta, si raga il gioco Ahimè scatta Io cerco di non farvelo mai notare Non lo dico mai, non mi lamento Però ovviamente se me lo chiedete Vi rispondo Effettivamente ragazzi il gioco Va un po' male Faccio 24 fps Ho un pc buono Però questo è l'unico gioco Che mi va così Ma comunque vabbè Cerco di chiudere un occhio di solito Cerco di far finta di nulla Poi mi avete detto Nick e pulisci le finestre Raga le finestre Sono già pulite Le ho già trovate pulite Difatti come potete notare Non mi chiede di pulirle Ho già fatto il giro di tutte le finestre E sono già tutte pulite La casa le aveva già tutte pulite Insomma Penso che Penso che la tengo raga Solo che Do gaspita Me lo faccio uno studio io qua Dove lo metto il mio computer Il computer Beh potrei metterlo anche qua Effettivamente no E' un portatile Allora sposta qui l'ufficio Già di così subito Fatto Ok E mo il mio ufficio è qua raga Quindi dovrei vendere l'altra casa Ah un'altra cosa ora che ci penso Ecco Ma avete detto Nick Guarda che la porta blindata c'è E' nella sezione survival Questa è la porta blindata di Nick Perché qua dentro Ci stanno cose preziose Armi Munizioni Cassaforte Uh Quanti soldi E' vuota Accidente Ok Quindi raga Questo è il nostro Questa è la nostra nuova casa Adesso naturalmente Conviene vendere la vecchia casa Quindi Che famo Uh 65 Namo 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 Oh 65 Quanto ci ho speso io qua Boh E insomma Teoricamente ci guadagno più o meno 13.000 Negozia Offerta E dammelo In altre 5.000 Dai 5 Facciamo 6 Ah ma dammelo In altre 6 Dai Sì Va bene Dai Buono Ci guadagno più o meno 20.000 Accetto offerta Buono A posto Venduta La mia vecchia casa L'ho venduta Però Oh cavolo Mo c'ho una casa con garage Ho una casa con piscina Eh ma la passo Meglio No Ah non ho sistemato l'esterno Ma sinceramente raga Dato che la casa è mia Ora come ora Non ho per niente fretta Di sistemare l'esterno Anzi per quanto mi riguarda Il colore va benissimo Allora questa è casa mia Questo qui non serve più E lo togliamo Quindi Ah che bella casa che c'è Nick Ok raga Quindi che famo Vediamo un po' Ci stavano Altri due email Altri due email Vediamo di completare Sti due lavori Vediamo se magari Salta fuori qualcos'altro Bella sta casa Allora Vediamo un po' Che cosa devo fare Sento scarafaggi Credo O qualcosa di simile È successo qualche cosa C'è qualcosa qui Ma che cos'è? Ah Il climatizzator Eccolo là Monta Allora qui se sbaglio Mo chissà da dove esce l'acqua Raga Sono curioso Vediamo esce acqua Ancora no Da questo dovevo uscire Chissà quanta acqua Ok va Famo prima questo L'altro filo Non riesco a prenderlo Bene Ahi Non esce acqua qua Ok Fatto Ho sbagliato un mucchio di volte Però va bene Che abbiamo qua dietro Dov'è che sento? Ah Ah Che perdita incredibile Di acqua Va bene va Vale Pulire Ah finalmente Un altro climatizzator Compriamo un altro clima Monta Bello Mi piace Ne ho montati così pochi Che almeno Mi piace che ogni tanto Mondo qualcosa di diverso Allora andiamo con questo Andiamo con questo Andiamo con questo Eccolo Mo collego prima tutti i fili E poi Passo alle viti Ale Quindi questo va qua Questo va qua E questo va qua Stavolta non ho sbagliato Manco mezza volta Ah ma qui proprio Mancano i climatizzatori Ovunque Ah no 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 Devo stare Attento Perfetto Che sinceramente Voglio di raccogliere acqua Non ne ho Qui ci vuole quello Del bagno Qui se sbaglio Esce la dannata acqua Bisogna stare Attenti Che se becchiamo Il rosso Ok Non c'è una stanza Che va pitturata Ah qui dobbiamo pulire Le finestre Interessante Ok Sono ben Ci stanno ben tre Finestre da pulire Bene Un'ultima finestra Questa era proprio Sporchissima Dipingere lime Pittura PPP No No Bianco no Lime Vai Guarda Nick Com'è veloce A pitturare Non ci vuole niente Che poi Ormai Credo che ho messo Più o meno Tutti i punti Che avevo Quindi Teoricamente A pitturare Non ci metto Un cavolo Ok Ho già finito Un barattolo Peccato che Non mi dà La possibilità Di vendere I barattoli Usati Perché sinceramente Non so dove Caspita Li devo mollare Tutti sti barattoli Usati Magari C'è qualche altro Modo Per farli Sparire Ok Bene Non c'è proprio Un modo Ah ok Premi per gettare No Questo non me lo fa Gettare Sollevare Io lo lascio qua dentro E basta Oh ma ancora C'è un mucchio Di roba Da fare Però Pulisci La finestra Ok Fatto capo Allora Pittura Cacao E mandorla Sabbia Sabbia Mandorla Ok Che Caspita Pitturo E facciamo Metà 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 In un modo E metà In un altro modo Così mi faccio Bastare Tutto Sto colore Anzi Volete vedere Che c'è un trucchetto Per risparmiare Sul colore Mo vi faccio vedere Che c'è un trucchetto Per risparmiare Sul colore Dov'è che sta Quel colore Lì Quello Quello lì Che mi è avanzato Allora Pichiamo sto colore Lime Lo mettiamo qua E Ok E poi faccio così Boom Visto L'ho cambiato Il lime L'ho trasformato In cacao Credo Cacao Cioè così Facendo No Veramente Dovevo pigliare L'altro Masi Tanto a cambiare Colore Che ci vuole E quindi Raga In questo modo Riusciamo A consumare Il colore Che mi avanza No Hai visto Non è una bella idea Pio 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 Questo E poi E poi Pio Questo E il risparmio Vale Va che roba Così consumiamo Sto Lime Che tanto Non mi Serva Niente Ho finito Il lime Ok Almeno Raga L'ho tolto Dalle scatole Quell' Lime No Non è una bella cosa È una Stupenda Cosa Così Ho risparmiato Anche sul colore Ho risparmiato Dei soldi Allora Bello Sto Colore Cacao Devo dire Raga È proprio Un bel colore Penso che è questo Bene Fatto Allora Tutto sto colore Che avanza Lo sfruttiamo Con quel trucchetto Ok Ho finito Quel colore Lì E adesso Completo Con quello Che resta Qui Con sto Bel Barattolo Riesco Sicuramente A Concludere Riesco Sicuramente A finire La stanza Con quello Che è rimasto Questo qua Ok Bah Ci risolvo Poche e niente Comunque Perché Alla fine Mi avanza Mo' Il rosa Ok Ho fatto Tutto al 100% Olè Completa 6.000 euro Vai Vediamo Se manca Un ultimo Lavoro Ragà Per quanto riguarda Le email Non lo so Se ne arrivano Altre Vediamo Un po' Posta No Ok Facciamo Quest'ultimo Va Bunker Facciamo Questo E forse Che in questo Modo Completo Tutte le email Poi rimangono Solo le case Vediamo Un po' Quanti vini Beh vini Si Diciamo Devo fare Devo fare Devo fare qualcosa In esterno Pare di no Ok Nessun compito In questa stanza Qua Niente Qua Che devo fare Ah il bunker E basta Mazza Devo Devo solo Sistemare Il bunker Ho capito Ma che cos'è Sta specie Di copertura Ok Allora Cominciamo a pulire Devo pitturare Qua Si Ah elimina Scaffale Che devo vendere Più E questi no Ok Va bene Pensavo che Dovevo rimuoverli No invece no C'è una Dannata Bottiglia A posto Diamo quindi Una bella Ripulita Sta stanza Vabbè va Pitturiamo dopo Prima conviene proprio Fare piazza pulita Ok Se c'è qualcosa Da vendere Vendiamo Lascia no Perché dice che gli serve Giustamente In un bunker Un'ascia Può tornare utile Ok Questo è da vendere Marò Mi sono spaventato Di che cacchio Cade qua Ok Manca Ok E' fatta Tutta E' tutto Fatta a zone Interessante Dobbiamo montare I sanitari Questo no Però lo posso Spostare Ok E' questo Sinceramente Io lo metto Qua Guarda Ok Allora Cominciamo a pitturare E poi passiamo Al resto Ma che così La cosa più La cosa più Più ovvia Meglio farla prima No Quindi Dipingere E pitturiamo Ale Ma ci vuole Fa proprio schifo Sta parete Quindi E' un bene Pitturare Ok Con la pittura Penso che Ci siamo Però Però Vabbè Questi Li faccio Comunque Bianchi A post Bene Quindi Che cosa devo mettere qua dentro Mobile da cucina moderno Con lavello Ok Molto lungo O per ora Lo piazzo qua Ste cose Sapete dove le possiamo mettere Le mettiamo qua Dato che non me le fa vendere Le mettiamo su sto scaffale Così Quanto meno Vabbè Questo lo mettiamo Lo mettiamo qui ovviamente Che questa è la cucina Allora Mo la cucina La posso mettere Quindi Qua E' due Due Menzo La sospesa Up Una la metto Quasi quasi qua E' un'altra La mettiamo così Guarda Ale Fatto Ok E' sto fornetto A microonde Boh Lo metto qua Ok Chiudi Colore bianco Pittura Può essere che c'è Basta qua Ok Allora Col bianco Fino a qua Ci siamo Ehm Che ci devo mettere qua 36 oggetti Devo mettere qua dentro Come no Allora Innanzitutto Sto martello Ma perché poi Non lo mettono in vendita Il martello Tutte ste cose Lascia Non capisco Ci stanno Ma non le mettono In vendita Cioè io non le posso comprare Qui su survival Lascia per dire Non l'hanno mai aggiunta Eppure Nel gioco ci sta Non capisco il perché E' una cassaforte Ma questo vuole la cassaforte Qua dentro C'ha cassaforte La metto qua A posto Che abbiamo qua dentro Mo Dipingi bianco Ok E cominciamo Ok Col bianco ci siamo Due letto Con cassetto Due letto Con Quattro Menzola Up Ok Up E ne vuole Quattro Allora Uno Due Due Tre E quattro Fatto Qua è da pitturare pure Pulire Devo pitturare No Bianco Che devo fare Piastre Ah qua ci vogliono Le piastrelle E allora Questo lo posso vendere E cominciamo Lui è Si è lui Ok Mettiamo quindi Le piastrelle A posto Ragà Le piastrelle Ce li abbiamo Cento per cento Vendi Allora install I dispositivi Cominciamo a svitare Questi che Dovrebbero essere Quelli della doccia Quindi Doccia Ce n'è solo una Quindi non posso sbagliare Monta Mi ho già paura Ragà Che mo Lo so Butto giù Un mucchio di acqua Qua Appena sbaglio qui Mi romperà le scatole Eccola La Che cacchio Ah questo E vabbè Tanto ormai Il danno è fatto Quindi Che se ne frega Vabbè Disastri Che abbiamo qua Toilette Questo non si può sbagliare Per fortuna Eccola là Molto semplice Fatto E alla fine Ci vuole Il lavello No se sbaglio Qui butto Altra acqua Ok Ok Devo stare attento Se no butto L'acqua Bene Non c'è una paura Piano piano Bene Fatto Che manca Angolo caldaia Angolo Caldaia La metto qua Cassettiera Mal Cassettiera Mal La metto qua Porta carta igienica Giusto Carta Igenica Quattro Carta igienica Ok No problema La metto per terra Quasi cosa La metto qua sopra Ok Finito Finito 10.000 dollari E 500 Allora Vediamo un po' Posta Finiti i lavori Raga Ho finito Tutti i lavori Quelli Delle email Ormai Mi restano solo 15 case Da comprare E da rivendere Ok Per il momento ragazzi Concludo qui Questo gameplay Spero tanto che vi sia piaciuto Mi raccomando raga Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione In su Ci becchiamo presto Ciao Alla prossima Ciao Ciao Al prossimo episodio